Circa 200.000 imprese rischiano il fermo dell'attività a causa dell'aumento dei costi energetici e quante emerge da un'indagine realizzata dalla CNA preso circa 2.500 imprese. L'importo della bolletta è aumentato del 33% per le imprese di costruzioni, del 31,9% per i trasporti e del 21,4% per il commercio. Il sistema sta già realizzando una serie di iniziative come rinviare investimenti programmati, ridurre l'organico, tagliare il monte a retribuzioni, potenziare la produzione di energia da fonti rinnovabili.